che si sta sempre benissimo hai lasciato la porta aperta alla porta questa dell'hotel però guardate che mare stupendo andiamo corriamo andiamo 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 sulla spiaggia la nostra icona del glamour Carmen Russo e il marito che sembrano essere stati incollati l'uno all'altro fin dal giorno del loro matrimonio Enzo Paolo Turchi hanno deciso di fare le valigie e prendere il primo volo per Miami e non sono soli in questa avventura la piccola Maria la loro adorabile figlia le accompagna in questa divertente vacanza questa mattina Carmen ha deciso di condividere con i suoi seguaci un piccolo assaggio della loro avventura in riva al mare con un mare agitato sullo sfondo Carmen mostra orgogliosa la loro fantastica location che sembra essere proprio il posto perfetto per fuggire dal trambusto quotidiano